I moti convettivi. Con questa esperienza vogliamo andare a dimostrare il più importante metodo di propagazione di calore nei fluidi. La convezione. Materiale necessario. Un contenitore grande contenente acqua fredda, un contenitore piccolo contenente acqua calda ed inchiostra. Introduciamo il contenitore piccolo nel contenitore grande. Come possiamo notare, l'acqua calda meno densa, per il principio di Archimede, sale verso l'alto. Mentre l'acqua che prima era calda e che ora si sta raffreddando, sta scendendo ai lati. Ecco dimostrati i moti convettivi. Grazie. Grazie.